Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. In una recente puntata di Striscia la notizia, Stefano De Martino è stato sorpreso da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il celebre tapiro d'oro, un'icona del TG satirico, in seguito alle recenti polemiche scaturite dalle pesanti accuse dell'ex Tolène Rodriguez. La showgirl ha accusato De Martino di tradirla con ben 12 donne, inclusa, secondo la voce pubblica, Alessia Marcuzzi. Durante la consegna del tapiro, Staffelli non ha esitato a chiedere a De Martino in modo scherzoso, sei un traditore seriale? Con un sorriso, De Martino ha risposto con calma, quanta pazienza devo ancora avere? Ho già espresso il mio punto di vista. Certo, so che le persone sono curiose di vedere il sangue, ma io non faccio il macellaio. L'unico giudice della mia vita è mio figlio, e mi dispiace che abbia letto certe cose sui social. La situazione, resa pubblica da striscia la notizia, aggiunge un capitolo alle recenti vicende personali di Stefano De Martino, che affronta le critiche mantenendo una posizione pacata e focalizzata sulla sua vita privata, sottolineando la sua priorità nel proteggere il benessere del suo figlio.